ben ritrovati amici oggi voglio parlarvi e devo dire con orgoglio anche in anteprima di un gioco che è già uscito nel suo paese natale ovvero hong kong però verrà presentato al pubblico europeo al prossimo spiel gioco che secondo me è un po un investimento ovvero in questo periodo estivo chi almeno è della mia generazione più o meno avrà sicuramente degli amici dei parenti che si sposano e quindi lo o la portano a un ricevimento sotto il sole con il caldo e tutto c'è da fare il regalo il gioco di oggi scalando fino a sette giocatori permette a botte di sei amici o sei parenti per volta più voi ovviamente di levarveli di torno perché un gioco assolutamente rovina amicizie e rovina famiglie partiamo quindi dalla bellissima scatola di lifebots o issa eccolo qui leggiamolo un po dunque 3 7 giocatori allora come dicevo prima è un gioco che scala fino a 7 però è comunque un party game quindi secondo me se lo dovete prendere per giocarlo in tre lasciate fare 5 6 7 è assolutamente il suo 45 minuti di durata 8 più l'età secondo me dipende perché se è giocato da tutti i ragazzini della stessa età va bene se è giocato da adulti va bene tra soli adulti e bambini insieme potrebbe non rendere al massimo ideato da ronald vettering ed edito alla broadway toys che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi l'antefatto è una nave pirata che naufraga vicino a delle isole e quindi i giocatori nei panni di capitani che possiamo anche tradurre in ufficiali e soprattutto mozzi cominciano a imbarcarsi su delle scialuppe per arrivare a destinazione però siamo pirati e quindi cosa succede che ci saranno le scialuppe messe male cominceranno a imbarcare acqua e imbarcando acqua ci sarà da decidere chi buttare a mare per non far affondare la scialuppa ci sarà anche da capire chi è che si muove più degli altri e anche ogni tanto vedendo le altre navi che se la passano un pochino meglio ci saranno anche dei personaggi che si butteranno a nuotare per cambiare la scialuppa sulla quale stanno cercando di salvare la pellaccia il tutto evitando l'alta marea che spazzerà via l'ultima scialuppa che sarà rimasta sul tabellone si tratta comunque di un gioco party game a mezzo votazioni estremamente ben ambientato paradossalmente è così la spiegazione che partirà tra poco sarà brevissima perché i concetti di gioco sono veramente brevi vi anticipo che comunque il gioco prevederebbe anche una fase di negoziazione verbale con una clessidra che nella dimostrazione non ho messo perché comunque quella parte lì non aveva senso nella spiegazione delle regole ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso per cui vediamo come funziona sistemiamo il tabellone al centro del tavolo mettendo poi sul tavolo sempre ammanciata tutti i segnalini falla ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere due capitani cinque pirati una nave sempre del suo colore e la sua mano di carte composta da tre capitani e una carta per ogni colore scelto dagli avversari più sempre il nero che sarà neutrale scelto un primo a caso gli andrà dato il timone a questo punto partendo dal primo e procedendo in senso orario ogni giocatore piazzerà la nave del suo colore su uno degli spazi di partenza e poi sempre il primo piazzerà la nera che sarà sempre neutrale sto ipotizzando per la dimostrazione una partita a cinque giocatori quindi due spazi rimarranno a vuoti a questo punto sempre partendo dal primo e procedendo in senso orario ognuno piazzerà un pezzo del suo colore su una delle scialuppe mi raccomando non è obbligatorio e anzi io lo sconsiglio anche piazzare i nostri elementi solo sulla nostra nave li potremo e secondo me li dovremo piazzare sulle navi di tutti i colori e quindi a forza di piazzare un elemento a testa andremo avanti fino a quando tutti avranno piazzato tutti i propri elementi di gioco siamo già pronti per iniziare una partita a questo gioco si articola in un numero variabile di turni e si andrà avanti a giocare fino a quando tutte le scialuppe presenti sul tabellone saranno o arrivate su una delle isole oppure saranno affondate il turno è da svolgersi completamente in contemporanea e vedrà i giocatori compiere diverse votazioni per decretare chi dovrà fare quello che c'è da fare la prima cosa da attribuire all'inizio del turno quindi la prima votazione del turno verterà su quale scialuppa riceverà una falla i giocatori quindi tutti insieme sceglieranno una carta dalla mano e quando tutti saranno incomodo gireranno la carta verranno sommati tutti i colori giocati dai giocatori e la nave che riceverà più votazioni sarà quella che in questo caso riceverà la falla in qualsiasi momento ci fosse un pari merito sarà sempre il giocatore che in quel momento ha il timone a decidere chi tra quelli pareggianti riceverà il bonus o il malus normalmente le carte colorate verranno riprese in mano dai giocatori così che possono essere riutilizzate in votazioni successive però ogni giocatore avrà in mano anche tre capitani quando un giocatore gioca il capitano vincerà automaticamente la votazione in corso decretando chi sarà a prendere il bonus o il malus in palio in quel momento i capitani a differenza delle carte colorate una volta utilizzati verranno rimossi dalla partita laddove però più di un giocatore giocasse il capitano nella stessa votazione questi si annullerebbero e quindi si andrebbe a decretare il vincitore della votazione con i colori nel malaugurato caso in cui tutti i giocatori giocassero il capitano nella stessa votazione di fatto ci sarebbe un pareggio a zero per tutti i colori e deciderebbe quindi di nuovo il giocatore proprietario del timone però torniamo alla spiegazione abbiamo deciso quale scialuppa dovrà ricevere la falla mettiamo caso quella arancione la falla dovrà prendere il posto di un pezzo lì presente se non c'è nessun buco libero come in questo caso quindi all'interno di quella scialuppa dovrà avvenire una nuova votazione che decreterà quale colore dovrà buttare a mare un suo pezzo per questa votazione in particolare quindi voteranno solo i giocatori proprietari dei pezzi blu viola gialli e grigi anche in questo caso e per qualsiasi altra votazione potremo sempre utilizzare il capitano questo lo sottolineo comunque vada faremo una nuova votazione e in caso di fare merito di nuovo deciderà chi ha il timone anche se non presente su quella nave e decreteremo il colore che dovrà rimuovere dalla partita un suo pezzo per questo tipo di votazione avrà anche un'incidenza il tipo e la quantità di pezzi presenti su quella scialuppa ogni capitano avrà valore di due per il suo voto ogni marinaio solo un voto quindi il colore che sarà scelto dal giocatore blu avrà tre voti il colore scelto dal giocatore giallo due voti il colore scelto dal viola e dal grigio un voto solo mettiamo caso che sia il grigio a perdere rimuoverà il suo pezzo dalla partita e al suo posto verrà sistemata una falla in qualsiasi fase del turno una scialuppa avesse più falle che pezzi a bordo quella scialuppa affonderà immediatamente dopo l'attribuzione della falla andremo a scegliere sempre a mezzo votazione la scialuppa che si muoverà verso le isole di nuovo verrà compiuta una votazione da tutti i giocatori e la scialuppa selezionata farà un passo avanti a meno che non si tratti di una scialuppa con almeno una falla a bordo in quel caso farà due passi avanti e quindi giusto per fare un esempio pratico se si muovesse la scialuppa arancione farebbe appunto due passi se si muovesse quella viola farebbe un solo passo perché ancora è tutta integra dopo anche la fase di movimento ci sarà una fase di rimescolamento dei pezzi dei giocatori partendo dal primo e procedendo in senso orario ogni giocatore dovrà rimuovere da una delle scialuppe un suo pezzo purché da quella scialuppa ancora nessuno abbia rimosso suoi pezzi ora non è sicuramente il caso dell'inizio della partita come in questo esempio però andando avanti con i turni e soprattutto con l'affondamento delle varie scialuppe potrebbe capitare che un giocatore abbia pezzi solo su scialuppe dalle quali è già sceso un pezzo di un altro giocatore se un giocatore non può far scendere nessun suo pezzo semplicemente salterà questa fase dopodiché dopo che tutti i giocatori che hanno la facoltà avranno fatto scendere un loro pezzo andando in ordine inverso di turno ogni giocatore dovrà ricollocare quel pezzo in uno spazio libero di un'altra scialuppa io vi consiglio di scendere i pezzi comunque mettendoli accanto alle navi dalle quali le avete fatti scendere in modo da ricordarsi chi ha fatto scendere il pezzo e da quale scialuppa è possibile in questo modo anche far scendere i capitani l'importante è che sia un pezzo del nostro colore laddove durante questa fase un giocatore non potesse cambiare scialuppa al suo pezzo questo sarà affogato e verrà rimosso dal gioco sempre parlando per esempi in questo caso la scialuppa arancione ha un posto libero e quindi laddove le fosse attribuita una nuova falla successivamente non ci sarà bisogno di votare quale colore buttare a mare andrà automaticamente nel posto libero e quindi ricapitoliamo il turno la prima votazione sarà sulla scialuppa che riceverà una falla e all'interno della stessa scialuppa se non ci fossero spazi liberi per la falla ci sarà una nuova votazione per decretare quale colore dovrà buttare a mare un suo pezzo dopodiché ci sarà la seconda fase con la seconda votazione che sarà quella per far compiere i passi in avanti alle scialuppe un passo per quelle integre due passi per quelle che hanno almeno una falla la terza fase sarà quella di rimescolamento dei pezzi dove ogni giocatore in senso orario farà scendere dalla sua scialuppa un pezzo e sempre da scialuppe diverse dalle quali non sono scesi i pezzi e poi in ordine inverso andremo a riposizionare questi pezzi su scialuppe diverse da dove sono scesi dopodiché verrà passato il timone al giocatore a sinistra e si andrà avanti così laddove nel turno precedente il movimento fosse stato compiuto da una nave su cui è presente almeno una falla durante la prima votazione quella appunto delle falle ne saranno messe in palio due non solo una andranno una falla per ogni scialuppa alle prime due classificate come numero di voti a forza di camminare in avanti le scialuppe arriveranno sulle isole e una volta arrivate i pezzi sopravvissuti verranno sistemati accanto alle isole in quanto questi daranno punti diversi a seconda dell'isola stessa quella lassù in alto darà più punti delle altre questa tutta a destra un pochini meno quella centrale darà meno punti anche l'ordine d'arrivo delle scialuppe sarà importante quindi le terremo facendo una specie di classifica quelle che invece affonderanno saranno semplicemente rimosse dalla partita insieme a tutti i pezzi che c'erano sopra andando quindi avanti con la partita le scialuppe arriveranno a destinazione oppure affonderanno e l'ultima scialuppa rimasta sul tavellone automaticamente affonderà a quel momento andremo al conteggio dei punti ogni giocatore sommerà tutti i punti ricevuti isola per isola considerando che sulla stessa isola i capitani verranno sempre più punti rispetto ai mozzi e il giocatore col totale più alto sarà il vincitore in caso di pari merito verificheremo l'ordine d'arrivo della scialuppa del colore dei giocatori spareggianti chi ha la scialuppa arrivata prima dell'altro oppure anche l'unico che ha la scialuppa arrivata a destinazione vincerà lo spareggio ed eccoci qua di ritorno partiamo dai materiali che sono splendidi abbiamo le scialuppe che comunque sono di legno massello belle dure pesanti abbiamo tutti i componenti in legno ben sagomati comunque come meeple per quanto riguarda i capitani ci sarà da attaccare le etichette oramai vanno di moda le serigrafie però devo dire che questo sicuramente influisce sul prezzo ma dopo ci arriviamo vedrete che è una nota ai per favore abbiamo anche le carte tutte estremamente rigide e telate quindi secondo me nonostante si maneggino tanto non c'è bisogno delle bustine quindi è un gioco che si apparecchia se qualcuno passa di lì l'attenzione sicuramente viene catturata perché comunque scialuppe meeple tabellone bello grande sicuramente la caccia al tavolo farà girare più teste di quello che pensate per quanto riguarda le meccaniche avete visto che sono estremamente semplici però ambientata nel suo contesto ogni turno verterà su diverse votazioni la prima la nave che imbarca acqua o le navi e quindi ci sarà una prima votazione se all'interno poi della nave selezionata delle navi non ci sarà spazio ci sarà una ulteriore votazione per capire quale colore dovrà buttare a mare un suo pezzo andremo poi avanti con la seconda votazione che sarà quella per far spostare in avanti le navi quindi per cercare di arrivare alle isole infine ci sarà la parte delle nuotate con la con le quali i pezzi dei giocatori migreranno di scialuppa in scialuppa e poi si passa il timone al giocatore successivo si va avanti così si continua a giocare fino a quando solo una scialuppa sarà rimasta sul tabellone quindi per definizione sarà spazzata via dalla corrente si va ai punti chi ne fa di più vince la prima cosa che si impara giocando a live bots è che da soli non ci si salva perché paradossalmente se uno si fa la scialuppa con tutti i suoi personaggi sopra nessuno lo voterà mai per fargli fare passi in avanti e quindi comunque al netto dei capitani ma dopo ci arriviamo quella sarà una scialuppa che non farà un passo e sarà destinata ad essere l'ultima rimasta e quindi quella spazzata via dalla corrente il sistema delle votazioni è estremamente gradevole perché comunque impone sia un po di diplomazia tra i giocatori che comunque sarà un po limitata all'utilizzo della clessidra che è da 30 o 60 secondi ma comunque poco tempo quindi ci sarà casino al tavolo e va bene così visto il gioco ma comunque dicevo ci sarà sia il sistema col quale si andrà al voto normale con i colori e quindi la maggioranza ma anche il sistema dei capitani mi è piaciuto un casino perché i giocatori per tre volte nell'arco della partita avranno la possibilità di influenzare in modo massivo la votazione però sarò un giocatore che cercherà di tenersi i capitani fino alla fine e quindi giocarli quando gli altri li avranno finiti oppure li giocherò all'inizio perché gli altri pensano di tenerseli appunto e quindi all'inizio sarà più facile avere le votazioni a favore dipende un attimo dal tipo di giocatore che siete se siete uno che rischia e uno un pochino più parsimonioso in ogni caso quando tutti penseranno che sono finiti i capitani tirate fuori il vostro sicuramente saranno infamate per voi però chi sarà sulla scialuppa con voi che arriva a destinazione magari sull'isola che dà più punti sicuramente vi ringrazierà sistema di punteggio è estremamente leggero quindi comunque non è quello il quid del gioco il quid è riuscire a giocarlo senza andare alle mani con gli altri giocatori e anche per la sua natura e anche per il tipo di punti che dà è anche facile arrivare in fondo a pari merito e quindi anche il mandare avanti la scialuppa del nostro colore o almeno farla arrivare a destinazione sarà importante perché comunque i pareggi non sono da tenere sotto banco insomma si pareggia anche spesso quindi comunque un gioco mi sento di consigliare come dicevo all'inizio a gruppi molto numerosi soprattutto alle associazioni dove questo secondo me è un gioco e deve assolutamente entrare nella collezione di chi lo gioca in 6-7 perché comunque fa sbellicare dalle risate sicuramente io spero che qualche editore possa vedere questo video per portarlo in italiano anche perché di scritto non c'è praticamente niente e quindi mi sento di consigliarlo praticamente a tutti giocatori occasionali giocatori media esperienza giocatori esperti chiunque se si siede si diverte l'importante come dicevo è avere un gruppo livellato per l'età quindi secondo me giocato in famiglia non è il suo bisogna giocarlo adulti con adulti o ragazzetti con ragazzetti il mistone non è assolutamente la situazione ideale per lui per quanto riguarda il suo prezzo udite udite lifeboz con tutto questo popò di roba è annunciato a 30 euro è un prezzo non voglio dire la metà di quello che mi aspettavo però i due terzi sì e quindi anche questo è un valore aggiunto per poterlo portare in collezione usato ovviamente non ne ho idea ma comunque credo che intorno ai 20 euro ci si potrà stare e se respirate secondo me una partita gliela dovete concedere e siamo arrivati alla fine anche di questo video lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate in descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi il link al sito della broadway toys che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video i siti dei miei partner wildy con le magliette ls quei suoi giochi e miei codici sconto il link al canale gioconauta per recuperare tutte le mie live del mercoledì e al sito di wiga dove proverò a far partire un gia per il gioco di oggi appena esce questo video quindi come faccio noi vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti vi anticipo che il prossimo lo girerò su coni e se non siete iscritti cliccate qui sul pop up e attivate la campanella noi ci vediamo al prossimo video ciao